Ho visto Gesù. È venuto da me. Sono la sua sposa, no? Gesù mi ha fatto questo. L'estimate! Gesù Cristo ha scelto la nostra beata sorella. Santa Benedetta. Benedetta, mi trovate troppo propenso a credere al miracolo? Penso che voi non ci crediate affatto. Prendetemi con voi! Mi prego, aiutatemi! Come ti chiami? Suor Benedetta, e tu? Bartolomea. Stavo per cadere. Suor Benedetta. Dio ha messo questa giovane sul tuo cammino. Ma fa guidata con polso di ferro. Che io non ho. Dio ti guiderà. Bartolomea ha fatto qualcosa che vi ha turbata? No. Provate forse dell'affetto per lei? Quanto accade qui? È una blasfemia. Coloro che contano lo sanno già. Se è colpevole di blasfemia come l'accusate, andrà sul rugo. Ma delle accuse straordinarie esigono prove straordinarie. So come Dio fa succedere le cose. So che compie la sua volontà attraverso me. Voglio una confessione completa. Sacrilegio! Rinuncia alla tua vanità. Confessa! Non sempre comprendiamo gli strumenti di Dio. Potrebbe aver messo Benedetta in trance. O c'è inviato una folle che blatera di sciocchezze per servire i suoi disegni. Ciao! Ciao! Grazie a tutti